Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Parlarne tra amici in collaborazione con GoFundMe. Questa volta in realtà è Parlarne tra amiche perché oltre a me e a Irene abbiamo un incredibile ospite che è Cristina Parodi. Grazie mille di aver accettato il nostro invito. Oggi parliamo tra l'altro di un tema che è un po' complicato da trattare, soprattutto poi in questo periodo storico che è il lavoro, però del resto non so se c'è una persona più perfetta di te visto la carriera che hai avuto in un momento anche in cui per quello che facevi tu, cioè la giornalista, era anche un momento strano per essere una donna, insomma molto interessante. Io ti vorrei chiedere se te lo ricordi il primo lavoro che hai fatto, ma anche proprio che non c'entra nulla poi con la carriera che hai avuto. Ne ho fatti tanti che non c'entrano nulla con la carriera che hai avuto perché insomma come tutti i ragazzi di allora soprattutto sono per stare all'università un po' ci mantenevamo facendo tanti lavori. Per cui io ho fatto dal speaker nei tornei di tennis cosa che mi piaceva da morire perché io sono un'ex tennista e quindi lavoravo in questi tornei internazionali e stavo sul campo e presentavo Borg e McEnroe, facevo tutte le schede. Ma sulla sediolina alta? No, qui ci sta l'arbitro, io stavo sotto. Bella la figurina alta. Bella quella sedia. Quando c'è in spiaggia la torretta del bagnino è sempre affascinante, non ci puoi mai salire, è bellissima. E mi preparavo tutte le schede aggiornate dei loro risultati eccetera e li presentavo, dopodiché mi vedevo in prima fila sul campo tutte le partite più belle di tennis, quindi quello era un lavoro che mi piaceva da morire. Poi facevo la modella negli showroom, così giusto per raggranellare un po' di soldi. Poi facevo la correttrice di bozze, poi ho fatto l'insegnante, la supplente durante l'università, però direi il primo, proprio primissimo è lì nel tennis, sì, lavoravo. Tu ti ricordi qual è il tuo primo lavoro? Allora, devo dire il primo primo ho sempre, ci ho pensato preparando anche questa chiacchierata perché mi viene da dire barista, però non è vero, perché in realtà a Roma io a un certo punto, proprio piccolissima, avrò avuto 16-17 anni, ho conosciuto questo giornalista che si chiama Francesco Pacifico, che tuttora ho grande stima e lui mi faceva correggere e tradurre, anche a me, tradurre dall'inglese dei raccontini o correggere bozze e fu la prima persona che mi pagò per fare qualcosa, wow, quindi wow funziona. Ti si è aperto un mondo. Sì, e poi ho fatto la barista, no, devo dire, all'Angelo Mai, che è un centro, non so se esiste ancora, se è stato smantellato, era un centro sociale a Roma, cioè alle terme di Caracalla, quindi molto bello, dove mi pagavano una miseria e io non sapevo fare i cocktail, quindi in realtà era anche giusto pagarmi una miseria e i miei genitori erano molto contrari. Certo, e il tuo? Io ho iniziato a lavorare prestissimo, cioè a fare quello che faccio più o meno adesso che poi si è evoluto nel tempo, però ricordo che quando ero più piccola andavo in ufficio da mia mamma, lei fa ufficio stampa nella moda e etichettavo gli inviti alle sfilate quando ancora era molto importante mandarli fisici, quindi magari c'era un brand che faceva l'invito che dovevi piegare il foglio in un certo modo, fare il fiocco, tutta una cosa e poi mettere gli indirizzi, dividerli per cap e mi ricordo che facevo questa cosa e lei mi dava, non so, una cifra simbolica, piuttosto che chiamare un'altra persona a farlo e mi ricordo che facevo il calco e dicevo, beh, faccio questo lavoro perciò tantissimo, chiaramente era mia madre che quindi mi mollava 50 euro, non so, per fare tre ore di inviti e dicevo, beh, è fatta, sono abbosto tutta la vita, quindi sì, però secondo me è un tema sempre più complicato perché oggi ho l'impressione che rispetto a un tempo sia fragilissimo come terreno quello del lavoro e infatti volevo chiederti, visto che hai dei figli, ne parlavamo prima, che hanno più o meno la nostra età se loro lavorano. Hai ragione, è molto diverso, nel senso che prima, secondo me, anche dal punto di vista del percorso scolastico c'erano dei mestieri ben precisi che uno sceglieva ed era più facile arrivarci. Io quando ho deciso di fare la giornalista, alla fine mi sono presentata e mi hanno preso immediatamente. Adesso ci sono mille possibilità in più di studi, di strade da prendere, ma è molto più complicato arrivare a lavorare, cioè bisogna un po' inventarsi il lavoro e bisogna essere molto specializzati e molto bravi nel fare quello che sai fare, cioè secondo me si è aperto molto di più il ventaglio delle possibilità, però poi concretamente arrivare al posto di lavoro è molto più complicato. Dei miei tre figli, l'unica che ha iniziato a lavorare proprio adesso è la grande, che ha 25 anni, che ha una laurea e due master in botanica e adesso ha per fortuna un contratto dall'università come ricercatrice. Wow, bravissima! Ha 25 anni comunque. E l'altro è... Sì, assurdo, perché mia mamma a 26 mi ha inventato, quindi vuol dire che aveva già più o meno un lavoro da vari anni e delle possibilità diverse. Eh, bisogna mettere più a frutto la propria fantasia, comunque le proprie idee ed avere una, secondo me, una tenacia molto più forte di quella che avevamo noi. Cioè secondo me, io mi accorgevo allora, dovunque ti presentassi, comunque bene o male ti prendevano e era più facile trovare lavoro. Adesso no, infatti non a caso, tanti ragazzi purtroppo vanno all'estero e quello è un peccato, è un danno per il nostro paese perché poi all'estero scoprono che li pagano di più, che ci sono dei percorsi preferenziali, che comunque è più facile arrivare al lavoro e ci perdiamo anche delle menti importanti che ci servirebbero tantissimo, no? Cioè ancora oggi, però mi immagino che quando hai incominciato a lavorare tu, soprattutto nel campo del giornalismo, essere una donna fosse più complicato. Hai mai vissuto questa disparità di genere? Ma guarda, io ho incominciato a fare la giornalista nel campo sportivo di calcio, nel momento in cui nel calcio effettivamente andava molto di moda che ci fosse una donna, una ragazza, magari anche se carina, piacevole, che ti raccontasse le partite e facessi i servizi. Quindi era proprio il periodo in cui c'era il Baparietti, c'era la Clerici e io anche sono stata coinvolta come giornalista sportiva di calcio senza che il calcio mi piacesse minimamente, proprio non mi ha mai appassionato. E quindi no, non mi sono mai sentita discriminata perché io ho incominciato a studiare il calcio proprio dall'ABC, compravo la gazzetta dello sport, studiavo tutti i giorni mentre ero in casa con le mie amiche all'università, per essere proprio preparata. Io di base sono sempre stata una secchiona tremenda. Però ero molto contenta, ecco, di poter iniziare la carriera in quell'ambito, in quell'ambiente, che peraltro richiede una precisione pazzesca perché il pubblico che ti segue, gli appassionati di sport, non ti concedono, non ti permettono nessun errore. Per cui, insomma, devi essere davvero molto preparata. Poi al TG5, quando finalmente ho fatto quello che mi piaceva di più fare, cioè occuparmi di news, devo dire che c'era tanta gente, tanti ragazzi giovani e anche tante donne. Il giornalismo, secondo me, in quegli anni stava molto cambiando, per cui era un mestiere nel quale le donne incominciavano ad essere veramente brave, veramente brave, anche più brave degli uomini. La difficoltà era non soltanto essere una brava giornalista, una brava inviata, una brava anchorwoman, ma riuscire ad avere dei posti di responsabilità nell'informazione. E quello, nei miei anni al TG5, non c'è molto stato, ecco, perché al di là di uno o due che sono diventate poi vice direttore, però alla fine nei telegiornali, nei quotidiani, insomma, nei giornali importanti, poi il direttore era sempre l'uomo. Io non ci ho neanche provato a fare quella carriera, perché bisogna anche volerlo, avere un indice. Io non sono mai stata proprio portata per dirigere io e fare il capo. Però, insomma, ho trovato però in quegli anni molto stimolante, ecco, far parte comunque di un gruppo di donne che erano assolutamente credibili, brave e che lavoravano con tanti uomini. C'è una domanda che facciamo sempre ai nostri ospiti, che in realtà faccio a Irene così Cristina ci può pensare nel frattempo. È difficile. No, è che cosa diresti alla te stessa ventenne se potessi incontrarla? Che consiglio le daresti? Però vorrei che rispondessi. Sì, sì, in questo caso sì. Allora, in realtà io devo dire una cosa, cioè, comunque è andata bene, cioè non posso lamentarmi, quindi tipo non ho delle cose, cioè forse ecco, una cosa che direi è di salvaguardare anche l'aspetto forse più emotivo. Cioè io per, cioè visto che sono sempre stata molto concentrata sul lavoro, a un certo punto ho proprio perso di vista tutta un'altra serie di cose e magari ecco, le direi, cioè, stacci un po', cioè, voglio, cioè, abbia un pochino più cura di te per altri versi. Ecco, forse questo. Bello. Forse mi direi di essere un po' più, non dico spregiudicata, ma insomma di crederci un po' di più in te stessa. Ecco, io sono sempre stata una persona molto preoccupata di essere all'altezza. Ecco, ci sono tante persone che fanno il mio mestiere e che credono molto di essere le più brave del mondo. Io non ci ho mai creduto, non ci credo nemmeno adesso, però soprattutto allora, ogni volta che dovevo fare una cosa nuova, diversa, ero sempre ansiosissima, capito? E quindi mi preparavo centomila volte di più del normale e quindi magari perdevo anche tanto tempo. Forse di credere un po' di più nelle mie capacità e nella mia bravura. Bello. Tu? Adesso è passato davvero poco tempo, quindi è piccolato ieri. Cioè, quando tu hai iniziato a lavorare i 14 anni avevi. Ah, ok, quindi non alla mia ventenne. Cioè, te facciamola alla te i 14 anni. Alla me è quando ho iniziato a lavorare, allora sono passati una decina d'anni e a questo punto le direi... Cioè, devi dedicarci un po' meno, perché è tutto così presto. Adesso vedo, i miei amici sono molto gelosa del loro percorso scolastico-liceale così lineare, che hanno avuto una classe per 5 anni, hanno fatto la scuola senza fare altre cose, senza avere la testa sempre da 10.000 parti e questo gli ha permesso di essere identitariamente anche molto più decisi di come lo sono io, non so come dire, alla mia età. E quindi forse... Però ha fatto di aver creato un mestiere, un'immagine come la tua, così giovane, invece deve darti una forza pesca. Chiaramente me la dà, però sono stata molto concentrata per un sacco di tempo su forse gli aspetti sbagliati di me, perché poi era un lavoro che praticamente mi richiedeva tanto tempo, perché comunque registrare e editare i video mi richiedeva tante ore. E quindi mi ricordo che passavo un sacco di tempo a fare questa cosa e forse fuori c'era un mondo e... Ti sei persa qualcosa, cioè... Eh sì, poi ovviamente, cioè, guadagnando tantissime altre cose e va benissimo così, e tantissime altre esperienze, persone e anche tantissime possibilità proprio, perché ovviamente, cioè, sono indipendente da quando sono molto piccola e questa è una cosa importante. Però, delle volte, essere diventata grande così velocemente mi fa provare FOMO per delle cose passate che non possono neanche più vivere, quindi forse questa cosa qui. Comunque, tu in realtà fai anche un altro lavoro. Le faccio un sacco. Oltre all'imprenditrice, oltre ai dodici che avevo appena nominato. No, sei stata varie volte testimonial di diverse organizzazioni durante alcune crisi umanitarie, e volevo chiederti che cosa significa essere testimonial di un'organizzazione. Ma, guarda, quella è una parte della mia vita che mi ha sempre appassionato e che mi ha dato sempre tantissimo. Cioè, poter utilizzare il potere che hai con la tua immagine, facendo un lavoro pubblico, quindi col fatto che le persone ti conoscono, che hai una certa credibilità, come quella che ti viene dal giornalismo. Poter utilizzare questo tuo talento e la tua possibilità di raccontare, di comunicare, per poter far arrivare dei messaggi importanti, è una cosa bellissima. Quindi è un lavoro, ma è in realtà una passione, che ho iniziato, insomma, molto tempo fa. Ho lavorato con tante associazioni, tante ONG. In particolar modo io sono legata a Cesvi, perché è una ONG di Bergamo, che io ho conosciuto quando mi sono trasferita a Bergamo, mi sono sposata, e non ho più lasciato, perché loro sono bravissimi, lavorano in tutto il mondo, fanno cose bellissime, difendono i diritti umani dei più deboli sempre, quindi principalmente delle donne e dei bambini, hanno dei progetti molto belli. E io, insomma, con loro ho girato il mondo, sono andata a vedere di persona i progetti, perché poi, sposando una causa, voglio vederla e poterla capire bene. E questo mi ha arricchito moltissimo, perché intanto il mondo della cooperazione internazionale è un mondo importantissimo, però, insomma, bisogna saperlo far bene e loro riescono davvero a portare l'eccellenza italiana nella capacità di gestire le emergenze, che gli italiani sono i più bravi del mondo. Infatti erano molto più conosciuti all'estero che in Italia. Devo dire che poi ultimamente, con tutto quello che è successo in Italia e a Bergamo, Cesvi si è molto riconvergito. Tra conti della campagna Sub-Fanmi che avete creato durante il Covid? Quella è stata una bella avventura che, devo dire, ha reso meno terribile quel periodo. Io, lavorando col Cesvi in quel periodo, sono riuscita a trovare comunque una motivazione per tenermi occupata attraverso un'iniziativa che è nata proprio nell'emergenza, nel dolore di quelle settimane. Ci siamo confrontati e abbiamo detto, ma cosa possiamo fare adesso di utile per la città? Era il momento in cui non si trovavano le mascherine, non c'erano gli strumenti di protezione, gli ospedali erano straintasati. E quindi è iniziata questa raccolta fondi per raccogliere dei soldi per poterli ovviamente convertire poi nell'acquisto di materiali utili all'ospedale. Ed è stato per me una cosa importantissima perché ha permesso di dare un senso a quella immobilità che bisognava stare a casa, non si poteva uscire, c'erano solamente notizie terribili. A Bergamo c'erano solo le campane a morto tutto il giorno. L'idea di poter fare qualcosa per gli altri, per la propria città, è stata veramente preziosa. Anche perché coinvolgendo tante persone conosciute, insomma tante aziende che hanno donato, abbiamo raccolto rapidamente una cifra molto importante che è stata subito convertita nell'acquisto appunto di quei beni che mancavano. E quindi abbiamo fornito agli ospedali, all'RSA, anche al nuovo ospedale degli Alpini che poi è nato per aiutare a gestire la situazione sanitaria, abbiamo comprato un'attacca. Insomma è stata una lunga cavalcata di generosità che ci è arrivata grazie a questa raccolta fondi che ha avuto un risultato molto importante. E da lì poi, devo dire, con il CESVI e con l'amministrazione comunale di Bergamo sono nate tante altre iniziative per aiutare le aziende e poi per aiutare anche tutto il mondo dello spettacolo che era quello che è rimasto poi più, devo dire, trascurato. Ecco, è tuttora. E quindi quello è stato il momento in cui davvero CESVI, da essere un'associazione molto conosciuta all'estero ma poco in Italia, invece è riuscita a diventare nella sua Bergamo, nella città in cui è nata invece uno strumento importantissimo per avviare una serie di progetti che ad esempio continuano a esserci per aiutare le persone che vivono da sole e che sono particolarmente fragili per problemi di malattia, che non si possono muovere. Cioè tutto questo circuito di aiuto nei confronti delle persone più in difficoltà è nato in quel periodo proprio grazie alla capacità del CESVI di gestire queste situazioni. Volevo raccontare a chi ci sta guardando di questo strumento di GoFundMe che si chiama Peer to Charity che consente a chiunque di creare una raccolta fondi già, diciamo, accreditata da un'associazione in cui si crede e quindi in un'occasione come Natale, come il compleanno, invece di farci fare dei regali brutti una cosa che potremmo fare è aprire delle raccolte e poi condividerle con il nostro network la nostra cerchia di amici, i parenti e far loro donare direttamente all'associazione come hai fatto tu che hai fatto delle cose incredibili. Prima di lasciarci, io però volevo chiedere una cosa perché tu quindi hai girato anche il mondo facendo da testimonial. Volevo sapere, se te lo ricordi, un episodio, immagino anche con i tuoi figli, non so se tu hai passato, comunque avete un rapporto che vi lega anche appunto basato su... Allora, io ho girato il mondo per visitare le case del sorriso che sono questi posti meravigliosi di Cesvi che accolgono i bambini che provengono dalle realtà più difficili, quindi abbandono, bambini abusati, bambini malati o che non hanno la possibilità di studiare e questi posti sono ovviamente nei paesi a sud del mondo, nei paesi più... che hanno le realtà più difficili, quindi dall'Africa, lo Zimbabwe, Sudafrica, Haiti, Brasile, India, le ho visitate tutte. In un caso, in una volta, sono andata con i miei bambini in India, nel Tamil Nadu, erano ancora abbastanza piccoli però adesso... Nel Tamil Nadu, wow! Nel Tamil Nadu, dove c'è una casa del sorriso. E li ho portati, ma ammetti che la grande avesse avuto forse 14 anni, quindi la piccola ne aveva 5 di meno, erano veramente piccolini, però noi andavamo spesso a fare viaggi per Natale, eccetera, li portavamo ovviamente in posti belli, alberghi, cose, eccetera. Io volevo che vedessero invece come era un viaggio fatto per andare a vedere una realtà diversa da quella in cui erano abituati a vivere. Ed è stato molto bello quel viaggio, perché pur essendo piccoli, loro sono andati in queste case del sorriso, dove c'erano i bambini che grazie a Cesvi non andavano a lavorare nelle fabbriche di mattoni, ma riuscivano ad avere cibo, ad avere studio, ad avere svago. E i miei bambini, insomma, giocavano con loro, mangiavano il riso con le mani, cosa che all'inizio non capivano, perché dopo averli educati, mi raccomando, con posti a tavole, arrivano lì e questi bambini dicono, ma cosa? Sì, 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 dai, avanti con le mani, certo. Ed è stato molto molto bello e loro se lo ricordano questa esperienza, si ricordano gli sguardi di quei bambini, si ricordano delle baracche che li ho portati a visitare dove questi bambini vivevano e di cosa si può davvero fare di bello e di utile per permettere a tutti i bambini di avere il sacrosanto diritto di vivere un'infanzia serena, cosa che purtroppo in quei paesi non succede. Peraltro lì era da poco avvenuto lo tsunami tremendo del 2004, quindi anche tutta la parte dei pescatori che vivevano di poco, ma di pesca in queste casette era stato totalmente distrutto, è stato uno dei viaggi certo che porto nel cuore di più. Cristina, grazie mille, ricordo a chi ci sta guardando che qua sotto trovano tutte le informazioni sia per Peer to Charity in generale sia il link alla pagina direttamente di CESBI, accreditata con GoFundMe e niente, grazie mille. Grazie Sofia, grazie Irene. E un boccalupo per tutto il resto. Anche a voi. Grazie. Grazie a tutti.